Amici miei bentornati, come promesso secondo episodio di questa piccola mini serie dedicata alle idee regalo e oggi ho altre 20 idee regalo, 20 gadget, 20 cose secondo me molto interessanti da regalare o da regalarsi quindi non perdiamoci anche questo video in troppe chiacchiere vi ricordo però di lasciare un bel like e nei commenti di dirmi un po' la vostra se avete poi altri gadget a consigliare beh fatelo ma partiamo subito con una chicca che vi farà proprio cantare la canzone di Pino Nanjoo proprio vi mettete lì e fate che idea, ma che idea, non vedi che lena c'è vabbè basta, comunque eccolo qua, bellissimo perché beh è un power bank sì ma ha un design eccezionale e soprattutto ha delle feature un po' diverse dagli altri secondo me partiamo subito dal fatto che secondo me è molto bello esteticamente ha questo vedo non vedo, questa specie di circuito a vista che ultimamente va tanto e che devo dire ci sta molto molto bene è della New Dairy, dovrebbe pronunciarsi così nel caso correggetemi poi nei commenti ma è particolare anche perché uno ha un bel display a vista che vi indica la percentuale precisa di batteria residua e questa è una cosa che a me piace molto ha una parte in alto con dei cavi che vi permettono appunto di evitare appunto di portare in un certo senso altri cavi appresso perché alla fine li avete già attaccati al power bank e già con questi cavi voi potete caricare il vostro dispositivo avete a disposizione una lightning e una USB-C e poi nella parte superiore comunque avete la possibilità di avere sempre accesso ad una USB-C per caricare il power bank oppure caricare un altro dispositivo senza contare poi che nella parte frontale ha pure una piccola base di appoggio e di ricarica per un Apple Watch quindi una specie di diciamo base di ricarica portatile veramente efficace l'unico problema è che è un po' difficile da trovare su Amazon vi lascerò comunque il link in descrizione e costa, effettivamente costa abbastanza quindi fate un po' le vostre rotazioni però secondo me è veramente una figata 10.000 mAh ricarica a 22.5 Watt però molto molto bello con questo ci fate una bella figura lato regalo ma se non riuscite a trovare appunto questo qui e volete regalare appunto un power bank perché effettivamente un power bank è sempre utile ho delle altre soluzioni partendo comunque partirei subito dalla soluzione che mi ha inviato Puro stavo parlando un po' con Puro e ho avuto la possibilità di farmi mandare un po' di gadget e tra l'altro dovrebbe esserci anche per voi un bel codice sconto ve lo lascio magari qui a display o comunque lo trovate in descrizione e sono molto contento perché è da un po' che volevo provare i gadget di Puro e quindi ne ho approfittato in un certo senso e devo dire che questo power bank secondo me ha tanto senso sempre 10.000 mAh anche lui la ricarica rapida e a disposizione in generale ha una USB-C nella parte superiore e nella parte invece bassa una USB standard quindi potete utilizzarle poi come preferite nella parte frontale ha dei 4 LED che vi permettono di capire un po' la percentuale di batteria residua del dispositivo e tutto sommato è un prodotto che risulta essere molto interessante per le dimensioni e per il design molto minimale è il primo power bank bianco che ho e questo mi fa piacere visto tutto il set bianco che spesso mi piace utilizzare ho anche l'iPhone bianco questa cosa mi piace particolarmente da abbinare poi abbiamo anche un bel cavo questo è sempre di Puro mi piace veramente un sacco anche questo qui perché è molto resistente è telato USB-C USB-C con il fermacavo bianco e fantastico funziona molto bene quindi se volete fare un regalo in kit con questi due secondo me fate proprio una bella figura se poi sfruttate anche il codice sconto mi fa piacere perché comunque risparmiate qualcosa io non ci guadagno nulla e ragazzi non è uno sponsor è una collaborazione ho provato i prodotti mi piacciono e ve li consiglio perché secondo me possono essere molto validi effettivamente poi un'altra cosa interessante o comunque un'altra soluzione è quella che fino a poco fa utilizzavo io effettivamente è quella di Inu non mi perdo in troppe ghiacchiere è un powerbank che trovate sui 20€ e che funziona bene so bene che in molti cercate sempre powerbank so bene che i powerbank risultano sempre utili e avere più soluzioni secondo me potrebbe essere interessante valutate poi voi quale fa più a caso vostro ok? se invece avete un iPhone e volete sfruttare la modalità diciamo MagSafe io ho due soluzioni per questo video questa qui di Anker che trovate ad un prezzo veramente secondo me super accessibile sempre e funziona ancora bene tra i migliori in generale secondo me per rapporto qualità prezzo e vedete che è anche un bel po' graffiato non so se riesco a farvelo vedere bene ma comunque sappiate che è un bel po' graffiato perché lo utilizzo ormai da tempo ormai da quando avevo iPhone 13 Pro e va ancora bene ha perso un po' di carica ma ci sta 5.000 mAh in questo caso mentre dall'altra parte vi consiglio comunque vi do una soluzione un po' più creativa perché è anche modulare e detto questo avete capito Moft il powerbank MagSafe di Moft e tutti gli altri gadget sempre del brand MagSafe il portafoglio ormai è quello che attualmente utilizzo da un po' e che mi dà tanto diciamo tante soddisfazioni visto anche lo stand integrato che mi piace veramente tanto come anche questo piccolo treppiedi MagSafe pieghevole è fantastico quindi veramente ottimo il powerbank sicuramente è bellissimo sicuramente è di qualità ma ha un diciamo percentuale di batteria un attimino più piccola come per la capacità è 3500 mAh un po' pochini vi dà solo quell'aiuto in più quella sicurezza in più in giro non è proprio un powerbank vero e proprio però anche qui fate un po' voi le vostre diciamo valutazioni effettivamente per proseguire però vi voglio fare un consiglio economico ma secondo me utile un paio di cuffie cablate di Apple vi parlo delle Airpods effettivamente col cavo in questo caso USB-C perché ci sono effettivamente le ho scoperte grazie a Simone Russo e le ho comprate subito perché? perché se come me utilizzate spesso le cuffie col cavo per editare video o comunque siete un po' amanti delle cuffie col cavo ancora oggi potrebbe essere un'ottima soluzione economica e accessibile ma comunque di qualità non isolano tantissimo ma la qualità è veramente ottima e per editare i video io ho bisogno del cavo perché mi eliminano la latenza io ho bisogno di avere bello tutto sincronizzato col cavo purtroppo così solo si può risolvere idea banale ma secondo me comunque efficace o comunque io la apprezzerei ok? detto questo proseguiamo poi con delle cover queste due cover una è di Puro l'altra è di Zira un brand di cui abbiamo già parlato qui sul canale anche nel precedente video partiamo da quella di Puro perché secondo me è particolare in un certo senso perché è una cover abbastanza standard trasparente con il retro bello rigido mag safe con un mag safe che prende molto bene e questa è una cosa che mi piace tanto ma perché vi dicevo particolare? perché protegge secondo me molto bene soprattutto grazie al rivestimento che trovate nella parte qui laterale vedete che c'è questo piccolo bumper aggiuntivo se possiamo dire bianco ebbene questo dovrebbe garantirvi una certa sicurezza in più e in generale mi sento anche più sicuro e sono sincero ero a telefono in bagno mi è caduto il telefono e ha diciamo resistito molto bene adesso non è che è caduto da cose gigantesche eccetera eccetera però il piccolo testo ce lo siamo fatti ok? mentre l'altra di Zira è un po' diversa perché diciamo in questa colorazione è trasparente ma non troppo diciamo un po' opaca con questi tasti finto alluminio che comunque male non sono che funzionano comunque molto bene con questo rivestimento della fotocamera molto interessante ma diciamo che la caratteristica principale di questa cover è la presenza di un MagSafe diciamo che può diventare stand e funziona bene sotto questo punto di vista è un qualcosa di molto molto particolare non la utilizzo da tantissimo però devo dire che in queste settimane di utilizzo non da tantissimo un mesetto forse comunque l'ho utilizzata un po' e devo dire che non si è allentato molto anche il giochettino qui da questa parte quindi potrebbe essere efficace potrebbe funzionare e potrebbe essere una soluzione diversa una cover effettivamente proprio diversa dalle altre c'è anche nera io ovviamente l'ho presa bianca me la sono fatta inviare bianca perché ovviamente a me il bianco piace è proprio come colore mi piace averlo per tutti gli accessori e devo dire che molto interessante non saprei quale scegliere tra tutte e due questa è un po' più classica questa è un po' diversa con questo qui però sappiate che io comunque utilizzo sempre gli anellini per stand utilizzo un portafoglio così quindi può avere senso come no è un qualcosa in più valutate voi quella che vi piace di più potrebbe essere comunque potrebbero essere ecco delle ottime soluzioni regalo per appunto Natale rimanendo sempre su Zira ho un altro accessorio molto interessante secondo me o meglio un supporto per auto con una ventola perché è stato pensato così? beh sapete bene che quando spesso si utilizza magari il MagSafe come ricarica tende un attimino a sorriscaldare non ho la base un attimino di ricarica in questo caso grazie a questa piccola ventola non si dovrebbe creare questo problema effettivamente o comunque dovrebbe essere gestito meglio funziona? a me sembra di sì effettivamente non l'ho provato in macchina ma l'ho messo sulla scrivania pur di testarlo però ragazzi non posso uscire non riuscivo a testarlo appunto in macchina l'ho provato qui ci sono due agganci uno un po' più standard per le ventoline per le bocchette dell'aria non l'ho fatta perché si spezzano almeno nella mia macchina si è spezzato oppure questo qui che potete attaccare sul cruscotto oppure dove volete eccetera eccetera ma alla fine ragazzi se ci pensate potete comprare un qualsiasi adattatore perché questo si sgancia da questa parte lo staccate e alla fine questo è quello importante che potete agganciare dove volete valutate un po' voi ma comunque secondo me ci sta ed è efficace perché effettivamente questa cosa del surriscaldamento funziona bene dovete gestire un po' in macchina ecco il cavo però se cercate una cosa un po' ibrida che vi fa da supporto e da ricarico quando siete in giro potrebbe essere una bella soluzione e potrebbe essere anche un bel regalo di Natale devo dire che è molto carino il packaging lascia un po' a desiderare per quanto riguarda il brand però vabbè ci sta alla fine interessa più che altro il prodotto piuttosto che la scatola alla fine una volta aperta la buttate però ci sta molto interessante come prodotto valutatelo perché è molto figo un altro prodotto molto molto bello che può essere veramente bello come idea regalo ma deve arrivare in tempo effettivamente non so se riesce è questo qui io ve lo posso perché secondo me è veramente efficace ed è veramente bello è un hub usbc di dockcase è da un sacco che vedo questo diciamo questo prodotto girare online tra i canali youtube tech e non l'avevo mai provato finalmente sono riuscito a provarlo e devo dire che uno è molto bello due questo display che vi dà tutte queste informazioni fa scena ed è figo questa cosa trasparente ci sta e due funziona proprio bene devo dire la verità è un prodotto molto o comunque per il momento mi è sembrato effettivamente affidabile 10 gigabit 100 watt ha una entrata per la sd una per la micro sd una usb altre due usb dall'altro lato un hdmi standard e un'altra usbc libera potete anche cambiargli il cavo potete fare quello che volete ed è un prodotto veramente bello secondo me ci fate proprio una bella figura se lo regalate ma tutti questi gadget dovete buttarli da qualche parte se nello scorso episodio vi ho mostrato delle tracolle oggi vi mostro un altro prodotto di puro che è questo lo zaino vi dico subito che ci sono tante colorazioni questa verde forse è quella che mi piace bene anche se ora è in tinta con la maglia è quella che mi piace meno ma il prodotto mi piace veramente tanto potrebbe diventare il mio zaino da tutti i giorni proprio quello che quando vado a fare uno shooting ho bisogno di poco porto lui anche perché il macbook da 16 ci entra benissimo quindi puro magari se me lo vuoi inviare è anche vero perfetto detto questo veramente bello perché mi piace come è costruito da questa parte ha una usb per caricare quindi solita cosa dentro ci mettete un powerbank e fuori caricate il vostro dispositivo anche in giro è gestito bene perché ha anche una bella diciamo cerniera qui che vi permette di posizionare cose di facile accesso mentre dall'altra parte comunque la tasca principale vi permette di inserire un macbook o comunque un pc se avete i soldi lo chiamate macbook dall'altra parte questa è una citazione non so se la capite vabbè il signor franzo comunque da questa parte invece abbiamo un ipad un'entrata per l'ipad poi dentro ci sono altre cose che il progetto di gestire bene è uno zaino fatto bene secondo me con un ottimo rapporto di apprezzo che vi consiglio perché potrebbe essere comunque un'idea regalo per l'università per il ragazzo che va all'università la ragazza che va all'università per tutti quelli che volete se invece avete un ipad oppure avete un macbook e volete proteggerlo al meglio potreste optare per questa diciamo per questo case di native union lo utilizzo da anni ed è bellissimo non solo essenzialmente ma anche per le per la protezione che effettivamente vi dà costicchia però secondo me è un bel regalo io lo utilizzo o comunque ce l'ho per il mio ipad da 11 pollici quando devo per esempio uscire e ho bisogno dell'ipad con la magic keyboard io comunque lo butto dentro così in modo che quando poi devo uscire fuori lo devo appoggiare magari su una superficie quella superficie sporca si becca tutto lui e il mio ipad è bello protetto bello tranquillo è stato tutto a posto molto bello devo dire la verità costicchia però è veramente figo e poi è adatto praticamente lo trovate praticamente per qualsiasi dispositivo mentre un'altra cosa molto figa che potreste regalare è magari un bel tacquino che a me sapete essere particolarmente cioè mi piace effettivamente è una bella penna questa me l'ha regalata per esempio adesso mio padre ed è un consiglio che vi voglio dare come regalo perché secondo me è molto bella è della Moleskine ed è proprio figa questa è una penna a sfera non è a penna gel non prendete penne a gel perché spesso macchiano troppo non l'ho provata questa qui non dovrei espormi però eh secondo me questa qui è meglio perché poi funziona bene potete utilizzarla ovunque questa è con l'inchiostro blu vedete un po' voi ma la cosa bella è che poi alla fine non è che dovete una volta finita la potete buttare potete cambiare le ricariche all'interno e praticamente può diventare un qualcosa di eh praticamente infinito finché non la spaccate questa la potete utilizzare sempre mentre il tacquino è un qualcosa in più qualcosa di romantico che vi permette di prendere appunti eccetera eccetera e di staccare un po' da questa tecnologia fidatevi potrebbe avere tanto tanto senso se avete un iPad però e volete posizionarlo sulla vostra postazione interessante potrebbe essere anche lo stand che utilizzo ormai da anni sinceramente quello da 11 pollici non mi dà problemi gira ancora benissimo quello da 12 pollici che ho per il mio 12.9 pollici se è rotto effettivamente non gira più sotto quindi diciamo che è affidabile però la rotazione magari potrebbe capitare una cosa del genere che si blocca un attimino però il prodotto è eccezionale mi piace tantissimo lo utilizzo ormai da un sacco di tempo e continuerò ad utilizzarlo e ve lo consiglio perché è magnetico non dà fastidio ed è bello da avere su una bella postazione effettivamente altro regalo o comunque idea regalo interessante è un prodotto che effettivamente utilizzo io in prima persona o meglio questo selfie stick MagSafe lo utilizzo ormai da un po' ci ho registrato diversi vlog ormai e vi dico che è molto affidabile ha questa parte diciamo gommata che permette di attaccare l'iPhone e di non farlo praticamente staccare mai funziona molto bene questo telecomandino sinceramente potete pure buttarlo perché non lo utilizzerete mai sinceramente però per il resto è affidabile anche per quanto riguarda le gambe perché effettivamente una volta posizionato proprio risulta bello solito dovete stare attenti quando lo posizionate un po' più così tende un po' a inclinare dovete avere un attimino paura che cada effettivamente però per il resto è veramente un ottimo dispositivo si allunga un bel po' è un selfie stick che vi fa anche da treppiedi e poi questa testina sopra MagSafe potete pure staccarla e posizionarla su un treppiedi standard basta un piccolo adattatore GoPro per l'attacco a vite bellissimo secondo me ci sta è un'ottima idea regalo con anche un buon rapporto di da prezzo e per chi fa tante foto tanti video potrebbe essere una bella una bella cosa se invece volete fare un regalo un attimino più diciamo non lo so potrebbe essere interessante una bella borraccia anche questa me l'ha inviata l'azienda WeWater la sto provando da un po' e sono sicera con voi non la sto utilizzando attualmente perché è stata sequestrata praticamente da mia mamma perché però è stata sequestrata da mia mamma e soprattutto che cosa la rende differente dalle altre beh questa qui uno è molto bella esteticamente molto minima mi piace ovviamente me la sono fatta inviare bianca perché mi piace non sponsor ma dovrebbe esserci comunque un codice sconto anche per questo che male non fa prendete e fatene il buon uso comunque molto bella esteticamente devo dire la verità mi piace tanto e ha la particolarità di essere uno termica e ragazzi sotto questo punto di vista funziona che una favola mantiene caldo per un bel po' di tempo e freddo per un bel po' di tempo quindi top e dico questo con diciamo ancora più piacere perché effettivamente questa ha un filtro all'interno che vi permette in poche parole di fare delle tisane ha un infusore integrato che permette di sfruttare appunto i vari infusi che trovate poi sul sito e bere l'acqua con degli aromi particolari e magari diciamo bere anche di più l'ho spiegata veramente male effettivamente però funziona funziona molto bene e arancia e cannella è una favola ci sono degli infusi caldi e degli infusi freddi ovviamente è inverno io vi consiglio quelli caldi e arancia e cannella è veramente efficace funziona bene c'è poco da dire secondo me potrebbe essere un'ottima idea regalo soprattutto per chi è amante un po' delle tisane eccetera eccetera vi ripeto mia mamma ne va ormai pazza se l'è presa e non la sto utilizzando infatti l'ho presa soltanto per fare questa clip perché l'ho provata e poi se l'è presa lei ma non è finita ovviamente perché la mia lista mi dice che non è finita qui abbiamo un altro prodotto da analizzare e abbiamo prima di tutto questo qui super piccolo ed è super economico un accessorio vi permette in poche parole di pulire qualsiasi dispositivo airpods perché c'è un accessorio per le airpods l'iphone bene perché c'è un accessorio per l'iphone che sarebbe quello delle airpods però potete andare più nel dettaglio magari con una pezzettina vi permette di pulire il display da questa parte vi permette di pulire le tastiere togliendo i keycaps vi permette di avere un liquido sempre diciamo a portata di mano perché c'ha questa piccola ampollina mi piace chiamarla così per appunto spray per appunto pulire i vostri dispositivi che ovviamente potete ricaricare e poi ha pure questo piccolo diciamo coso per togliere tutte le varie impurità tutte le varie polveri che si poggiano magari su una tastiera oppure su altri dispositivi è un accessorio che sono sincero sempre in tasca per video e per materie sempre tutto pulito perché sono un po' matto sotto questo punto di vista sono tipo matto un po' così e potrebbe essere interessante costa pochissimo e ci fate un bel regalo magari una bella combo magari un bel power bank è un bel coso per pulire lo chiamo coso ma è un 7 in 1 un kit di pulizia chiamatelo un po' come volete siamo verso la fine vi consiglio due tastiere perché una bella tastiera non fa mai male il precedente episodio vi ho consigliato dei mouse ora vi consiglio le tastiere quali? quelle che utilizzo io la MX Mini K e la Mechanical MX Mechanical tutte e due di Logitech le ormai le utilizzo da anni ci perdo due secondi perché le abbiamo parlato troppo ma secondo me possono essere delle ottime idee regalo soprattutto per chi scrive tanto a tastiera una membrana quella bianca quella MX Mini K le trovate in realtà tutte e due sia bianche che nere tra l'altro la Mini K è anche rossa rosa rosa vabbè rosa e quella membrana è molto comoda costa molto meno comunque bene rispetto a quella meccanica ma è comunque un'ottima tastiera per design per qualità per scrivere e anche questa si collega a tre dispositivi che potete switchare ma è efficacissima veramente come prodotto è super affidabile anche per quanto riguarda la batteria quella meccanica invece che ho io è in questa colorazione diciamo grigio scuro c'è anche bianca che sicuramente preferisco ma comunque questa qui è molto molto interessante soprattutto perché è meccanica appunto e in questo caso ha gli switch brown uno che vi consiglio soprattutto per quanto riguarda la scrittura super piacevole per finire poi andiamo verso due categorie un po' più c'è più nerd meno tech la prima un paio di manga perché non regalare un bel manga a chi è appassionato no? perché gli regalate delle storie gli regalate un'avventura gli regalate un qualcosa di piacevole da leggere che può essere un libro come vi ho considerato in un precedente comunque nel precedente episodio oppure un manga come in questo caso ovviamente non so nessuno per darvi dei consigli leggo cose veramente che non sono di altissimo livello io sinceramente vorrei iniziare 20th century boys sotto consiglio di Dario Moccia dai vari video ormai mi è entrato qua prima o poi lo compro però per il momento io vi consiglio in base a quelli che sono i miei gusti Mario Accademia ovviamente perché mi piace un sacco e i disegni sono veramente belli mi piace come manga Dr. Stone che mi ha preso particolarmente nell'ultimo periodo secondo me potrebbe essere una bella storia interessante e per finire una cosa un po' più creativa che però mi sta piacendo tantissimo Blue Period ancora oggi ve lo consiglio potrebbe essere un'ottima idea regalo poi valutate voi ci sono 150 miliardi di manga dipende un po' anche dai gusti valutate voi in base a quelle che sono le esigenze e le preferenze per finire poi perché non regalare un bel gioco da tavolo ragazzi potrebbe essere un'ottima idea regalo che ci giocate con gli amici e non solo ovviamente molto figo io ho quattro soluzioni in questo caso che in realtà gioco anche io proprio con i miei amici e con Antonio che tra l'altro conoscete il primo è Seven Wonder che tra l'altro è stato il regalo che ho fatto l'anno scorso ad Antonio proprio bellissimo come gioco un gioco un po' di guerra di strategia molto interessante Cocorido fa ridere ed è particolare da giocare con gli amici Risico lo conoscete non mi metto neanche qui a spiegarvi ma è uno dei giochi secondo me più figli interessanti e divertenti anche qui di strategia molto bello e per finire Exploding Kitten dovrebbe chiamarsi così correggetemi poi le pronunce ma è molto interessante e sicuramente divertente da giocare con gli amici quattro giochi con anche un ottimo rapporto qualità prezzo e secondo me anche divertenti proprio da fare effettivamente questo video sono andato a manetto ho provato a correre e a realizzare un video il più corto possibile ma 20 gadget 20 idee 20 gadget 20 idee quindi dura un po' di più ma ci sta ci siamo fatti una bella dichiarata e vi ho fatto una bella selezione secondo me quindi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti scrivetemi magari proprio il vostro regalo di Natale e aiutatemi a capire il mio perché io ancora non ho capito effettivamente cosa fare perché pensavo di avere la soluzione ma niente di avere la soluzione